Libertetta Famila chiude la sua prima Final Four di Eurolega nel modo più pazzesco possibile con la tripla di tabella sulla sirena finale di Svento Raite, alla sua prima conclusione da tre in tutta la stagione. Una vittoria clamorosa in una gara condotta per tutti i 40 minuti ma che proprio nel finale Prager è riuscita a pareggiare con tenacia e determinazione. Indescrivibile la gioia delle Orange che si sono presentate come la cenerempra della competizione ma hanno stupito tutti prima vendendo carissima la pelle contro il Fenerbahce e poi vincendo in maniera incredibile la finale per il terzo posto contro Praga. Determinazione Orange. Chi Berretta voglia sfrattare il tabù Praga pare evidente più subito. 4-0 di Mavri e Veroni in contropiede che diventa 11-3 con le due tripli di Howard. Al quinto prima scorsa il match con gli altri che fiscano ad Howard e Jones i loro due falli personali. Oblak tiene a contatto le sue ma ancora Veroni in contropiede costringe il time out dai cova finché le tripli di Soltana è messa al multiplo in quarto sui 23 a 14. Reazione d'orgoglio delle cieche che aprono la frazione con due tripli bruciapelo. Per tornare ad un solo possesso risvantaglio il Berretta vive un momento di confusione ma ne esce bene con i cambi e la giusta dose di sanguefretto. Parziale di 14-3 con la tripla di Mavri. I canesti di Indur e Keys per il massimo vantaggio sul 37-24. Jones e Oblak tornano a muovere lo scorre delle padrone di casa ma il tivo di statunitense commette anche il suo terzo fallo personale 39 a 28.